Gli ispezioni del Ministero, siamo a Ponente dell'Interno, oggi ha 20 miglia al Parco Roia, mentre la Regione dice no alla ricerca di un posto alternativo proposto dal Governo, Lucia Pescio. I cancelli del Campo Roia si aprono solo per la delegazione del Ministero dell'Interno, accompagnata dalle maggiori istituzioni locali. Il centro di accoglienza, chiuso di fatto dal lockdown, dentro ci sono meno di 50 migranti. Parte da qui la visita nella città di confine da Roma, si vuole capire il reale fenomeno dei flussi su 20 miglia e il futuro da scrivere in tempi strettissimi sul campo, gestito dalla Croce Rossa, ridotto ormai a piccolissimi numeri. A guidare la delegazione romana al prefetto Michele Di Bari, capo dipartimento delle libertà civili e delle immigrazioni. Noi adesso a fine settembre ci rivedremo di nuovo, faremo il punto della situazione. Nel frattempo speriamo che la situazione Covid vada sempre più ad affievolirsi e si dà la possibilità di alleggerire completamente la struttura di Parco Roia, di modo che man mano che queste situazioni vanno ad esaurirsi, noi metteremo in campo soluzioni alternative. Soluzioni ancora tutte da trovare per mettere un freno ad arrivi e bivacchi. A settembre dovrà essere firmato un documento congiunto con comune, province, effettive per migura e ministero. La regione dal canto suo vuole essere già chiara, nessuna intenzione di aprire nuove strutture per migranti in Liguria. Da risolvere il problema dell'aumento dei flussi, dei bivacchi, degli accampamenti sparsi per la città, questione sanitaria ma anche di ordine pubblico. Appuntamento per tutte le parti in causa, di nuovo in prefettura a settembre.